Salve, buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Nuova TV. Gli ultimi giorni della primavera hanno riportato le piogge dopo un lungo periodo di siccità, erano ormai circa 20 giorni che non pioveva in modo piuttosto diffuso sul nostro territorio. Da ieri le piogge sono tornate a cadere anche con una certa insistenza, ieri soprattutto le zone centro-meridionali della regione, alla parte estrema nord del Vulto del Melfese, hanno avuto precipitazioni molto forti, localmente si sono superate anche i 50 mm di pioggia nel pomeriggio di ieri, quindi un'ottima sicuramente quantità per le dighe e meno per la campagna, soprattutto dove in alcune zone c'è stata la grandine. Però dopo tanti giorni di caldo è normale questo contrasto tra l'aria calda e l'aria fredda. Per quanto riguarda il futuro, aspettiamoci ancora altra instabilità, perché la situazione tende a non guarire rapidamente, anzi ci sono altri impulsi da nord che potrebbero arrivare nel corso della settimana prossima. Non precorriamo i tempi, andiamo a vedere, con ordine andiamo a vedere innanzitutto il satellite, ci mostra una nuvolosità piuttosto, vedete, diffusa nella parte centrale del teleschermo, le vere e proprie perturbazioni stanno al nord delle Alpi, la notiamo lì tra la Francia e la Germania, che si arrota poi intorno alla circolazione dell'Islanda verso la Scandinavia, invece le nubi più bianche denotano una instabilità legata a una depressione in quota, quindi una goccia fredda in quota sul resto dell'Europa centro-meridionale. Quindi vediamo poi, con l'ingrandimento sull'Italia, notiamo quelle cellule bianche, proprio tra la Puglia e la Basilicata, già sono in atto delle precipitazioni in diverse zone della nostra regione, soprattutto sulla Puglia, ma anche in Basilicata, mentre rimane libero il cielo sull'Italia centro-meridionale, dopo invece, nei giorni scorsi, abbiamo avuto forti, temporali, forti precipitazioni. Vediamo, quindi con l'ausilio della grafica, questa instabilità andrà scemando nel corso della sera e della notte, quindi avremo un miglioramento generalizzato, rimarrà un cielo però ancora nuvoloso, non avremo un cielo sereno sicuramente, qualche pioggia residua nella starda serata di oggi, ma poi il tempo andrà migliorando nella notte, temporaneamente, perché poi c'è un nuovo peggioramento per la giornata di domani. Infatti andiamo a vedere la giornata di sabato, inizierà con tempo buono, discreto, cielo nuvoloso, poco nuvoloso, con molte scarite, poi vediamo infatti con la grafica temporali su quasi tutta la regione. La ventilazione da nord potrebbe risparmiare la parte più a nord della regione, i venti si andranno a densare sulla catena peninica, quindi potrebbero portare i temporali più diffusi, ancora una volta sulle zone più meridionali della regione e anche sulle zone orientali dove è maggiore il contrasto termico. Forse sulla zona nord, come dicevo, minore probabilità, qualche pioggia isolata e meno diffusa sicuramente rispetto al resto del territorio. Per quanto riguarda le temperature di sabato, quindi domani una situazione di temperature nella media, se vogliamo per quanto riguarda i valori massimi, 22 a potenza e 26 a materia, quindi valori che si riprendono. Per quanto riguarda le minime invece valori 14 a potenza e 17 a materia, valori stazionali. Siamo piovedo nelle medie del periodo, sia come le minime che con le massime, dopo la diminuzione che ci sarà oggi. La ventilazione è da nord, sostenuta soprattutto sulle zone più a est, ma i mari non risentono più di tanto di questa circolazione di venti in quanto rimangono poco mossi, a più fosse un pochino mosso lo ionio, ma in attenuazione. Vediamo la tendenza per la giornata di domenica, una situazione facsimile diciamo a domani, perché rimane più o meno la stessa situazione, anche in quota questa depressione è lenta a morire, quindi avrà modo di ripresentarsi sotto forma di rovescio temporale anche nella giornata di domenica. Infatti, vedete, l'attenuazione del vento da nord potrebbe far ricomparire la probabilità più alta di temporale anche sulle zone del vulturo emefese, quindi una situazione che vedrà sole in mattinata, forse anche caldo, laddove ci sarà il sole fino a 1, alle 2, alle 14, poi temporali che colpiranno in modo più forte le zone più meridionali e forse alcune zone del materano. Quindi una situazione ancora molto instabile, con le temperature che si riprendono leggermente sulle zone a destra della regione, quindi vedete un aumento su Matera intorno ai 28 gradi di massima, siamo malori comunque estivi, vedete, minima e stazionale 17, a potenza 13, un grado forse meno di minima, ma la massima riprende un grado, quindi 23 gradi. Siamo nelle medie, come dicevo, dopo il gran caldo che c'è stato nei giorni scorsi, siamo tornati nelle medie stagionali. Ricordiamoci che siamo ancora in primavera, seppur a giugno in oltrato, ma l'estate astronomica inizierà tra qualche giorno. La ventilazione rimane da ovest e nord ovest, si va attenuando, e solo sul materano avremo dei residui rinforzi, con i mari che rimangono comunque poco mossi, sia il Tireno che lo Ionio. Questa situazione si riproporrà ancora una volta lunedì, in forma un pochino più attenuata, con ancora dei temporali, soprattutto sulle zone occidentali, sulle zone della Gonegrese, anche sulla costa di Marateota, vedete, avremo una situazione di temporali nel pomeriggio, qualche pioggia, sempre nel pomeriggio, il meno probabile, diciamo, nelle zone al nord e le zone a est, forse risparmiata la zona di materia. Insomma, ci sono alcune zone del territorio che lunedì non avranno precipitazioni, ma comunque il tempo rimane leggermente instabile. In attesa poi di un nuovo peggioramento, probabilmente, tra martedì e mercoledì, ci sarà una ripresa dell'instabilità, altra aria fredda in quota, significa altra possibilità di temporali. E infatti, anche la cartina degli spaghetti, ormai nota, vedete, ci ripropone nella parte bassa dello schermo una lunga serie di piogge, di precipitazioni, praticamente tutti i giorni, questa è riferita a potenza, gli spaghetti di potenza, vedete però, tutti i giorni, quando più, quando meno, le piogge cadranno sul territorio. Le temperature in alto sono piuttosto uniformi, vedete le possibili linee di tendenza, le 20 linee di possibili di tendenza, sono tutte univoche, è strano trovare questa situazione, passiamo da temperature leggermente sotto media, a temperature a partire da lunedì e martedì, nelle medie, per molti giorni, non ci saranno scostamenti, né verso l'alto, né verso il basso, quindi andremo verso l'estate, queste valore ci traghetteranno verso l'estate, in modo normale, quindi avremo una situazione normale di temperature. Dopo il 24, 25, probabilmente ci sarà qualche lieve diminuzione, ma ne riparleremo la settimana prossima. Per il momento, ci sarà pioggia, quindi pomeriggio di pioggia, la mattina, un po' di sole, quindi approfittiamolo, se dobbiamo fare dei lavori all'aria aperta, perché poi nel pomeriggio la probabilità di pioggia sarà piuttosto alta. È tutto per oggi sulla Nuova TV, arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.